Ristorante Caio Mario, dove la grande cucina incontra l'arte, la storia e la cultura. Il ristorante albergo offre locali accoglienti dove poter apprezzare preparazioni della cucina tipica locale e specialità di pesce ideali per banchetti e ogni tipo di evento. Presso l'albergo è possibile alloggiare e organizzare conferenze e cerimonie. Dispone di ampio parcheggio riservato alla clientela. A Veroli, in provincia di Frosinone, in via Santa Maria 147. Per informazioni visitate il sito www.ristorantecaio.it